Rimani aggiornato sulle notizie di Gossip, Cronaca, Reality Show, Sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Trump senza filtri durante l'intervista rilasciata ieri 30 novembre alla rete britannica GB News, ospite dell'ex leader dell'Ukip Nigel Farage. Come riportato dal Daily Mail, il 45esimo presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro Meghan Markle accusandola di aver, mancato di rispetto, e, ferito, la regina. Non solo, la duchessa a suo dire ha anche, manipolato orribilmente, il principe Verri fino a rovinare la relazione con la sua famiglia. Verri è stato usato e un giorno se ne pentirà, ha tuonato Trump. Infine ha concluso sostenendo che Meghan sia stata, inappropriata, poiché ha usato il titolo reale per intromettersi nella politica degli Stati Uniti, dove i Sussex vivono da ormai anni, NDR, scrivendo una lettera su carta intestata dei Sussex per esercitare pressioni sui membri del Congresso su questioni come il congedo di paternità.